musica 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 bella ragazzi siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo gameplay siamo qui con un nuovo gameplay come se non l'avesse già dato e siamo qui con Juventus Inter e il Derby d'Italia siamo qui eh siamo qui a casa di ooooh comunque se non avete capito il Derby d'Italia e perciò va onorato come esso che sia come esso che sia e niente spero che finalmente ti riusci a vincere la partita perchè nelle ultime partite non riesco più a vincere perca troia oh Alvarez no lanciavo attenzione no porca puttana e vai subito valla per Alvarez che cazzo ha fatto guarda per Licksteiner mamma mia Licksteiner a me Licksteiner è uno dei giocatori che mi sa più sul cazzo dei ultimi ti sei una domanda Licksteiner madonna che culo tiraci mammaia la prossima volta tiraci un po' si è messo paura quello della telecamera la lì sta arrivando al tiro Palasio Alvarez Palasio è bellissimo Palasio ti sei scarso mamma mia John mamma mia mamma mia non lo sei chiaro perchè perdi sempre c'è mamma mia basta vai 1-0 Inter subito intenzione Tevez Tevez vuoi rispondere subito non va no Andanovic che grande Andanovic Sant'Andanovic San Samir non entrare nella porta attenzione eccolo non vuole entrare Vucic attenzione che palla per Marchisio 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 ma questa era goal non vuole entrare Marchisio ancora la palla per Vidal che palla per Vidal si c'è il pareggio ed è così purtroppo l'Inter deve soccombere Nagatoshi Nakatomo oh Alvarez alvarez ma che era ma che cosa era quel tiro ce l'ho in me mamma mia che bella palla che bella palla tiraci subito mamma che palla che ha torto ma che palla a Barzà arrivano i bersaglieri oddio mio basta oh Tevez allora come se ne va attenzione voglio chiudere il triangolo no non lo può chiudere ancora Vidal ancora si gioca nello stretto e si regala palla all'Inter ma l'Inter per fortuna è stupida perchè è guidata da Branca regala palla di nuovo a lui oh 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 attenzione che cosa ha fatto perchè ancora non arriva allora qui abbiamo giocic e scarico quindi se non riusciamo a registrare ora non possiamo più registrare il video quindi speriamo che vada tutto per il meglio oh oh lì c'era proprio una rovesciata c'era eh olè primo tempo finito eccoci qui con il secondo tempo toccherà l'Inter quanto chiacchieri a Samoa a chi? oh bella Jonathan subito la palla fuori il gioco città no 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 pirlo pirlo dribbling come per Marchisio Vidal come giocano dietro ma che palla ancora dentro per Vucinic ma che azioni è stata comunque una grande azione ragazzi comunque vada comunque intanto vi ricordo di passare per la pagina Facebook ve lo dico in napoletano passate per la pagina Facebook non so vabbè che cazzo mi confondi non è napoletano passate per la pagina Facebook a mettere un mi piace perchè lì ci saranno tante cose belle basta perchè c'è sta calata quando parli eccolo Rebets Rebets si lo vedi sta lontano che tiro ma che gol ma che cosa fa vado è idiota è poco stupido ma che gol Tevez c'è il 2 a 1 qui attenzione pirlo 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 oh passa in mezzo se non è per Vuciniccio ma che palla Vuciniccio ma la pinta si sta tenendo gioco degli avversari tenendo gioco che cosa ti sto facendo ti sto facendo soffrire bro attenzione ti voglio eccolo palla per l'XSiner che palla ancora sopra vede Vuciniccio ma niente da fare aspetta troppo ma anche mi sta vibrando una coscia no metti in mezzo no 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 stupido ma è coso tutto il cazzo oggi perdi lo dico poco più forte ma mai lo vedi Aguarin lo vedi Aguarin lo vedi Aguarin oddio rigore che cazzata eh rigore inizio primo rigore dell'Inter parigio rigalato parigio rigalato c'è qualcuno che esulta qui tra gli spalti oddio oddio che cazzo sta fatta mamma mia fermate mi segnava così me l'annava buffone uh che cosa fai ma io la mandi verso la difesa tua idiota vai dai vai oh ma che cosa si è fatto male ma che vuoi fa male adesso bello dai non ci posso credere questo se fa male tu uno scatto non è possibile ma va fuori culate vabbè comunque è finita qui con un pareggio io vi ricordo d'accordo di postare da pagina facebook ci vediamo alla prossima partita vabbè il prossimo video sarà un altro video comunque ci vediamo alla prossima bello